ebbene carissimi amici siamo in un nuovo video in un nuovo appuntamento insieme dove andiamo a parlare delle ultime vincite ottenute con i miei software attenzione perché abbiamo ottenuto un altro importantissimo risultato nell'estrazione del 14 di novembre quindi l'estrazione di ieri sto registrando in data 15 però andiamo a vedere oggi cosa hanno ottenuto i miei software sia nell'estrazione di sabato 11 sia nell'estrazione di martedì 14 nell'estrazione di sabato 11 il software la spia 8 fa il botto c'entra l'ambosecco 10 e 21 sulla ruota di napoli come potete notare dall'immagine presa dal software quindi questo è un software che ogni volta che esce la spia 8 su qualsiasi ruota mette in gioco una previsione composta da un estratto 4 ambisecchi e cerca di tentare anche le sorti superiori per terno quaterne cinguine infatti nel software è presente anche una voce dove potete giocare tutta diciamo la lunghetta poi sempre nell'estrazione di sabato il famoso software la spia maestosa si porta a casa un altro ambosecco il 60 e 43 sulla ruota di palermo quindi l'estrazione dell'11 sono due software che sono andati a vincere spia 8 fa il botto e spia maestosa spia maestosa ormai conosciuta da tantissimi utenti che ha fatto vincere veramente tanta gente ed è un software che dopo la sortita della spia 90 su qualsiasi ruota propone la previsione un estratto 4 ambisecchi e due abbinamenti per tentare il terno ma veniamo a ciò che è accaduto nell'estrazione di martedì 14 novembre perché andiamo a parlare ancora una volta del software spia magica se andate a vedere su mio canale youtube c'è un video dove spia magica aveva già ottenuto una bellissima vincita con un terno secco a venezia guarda caso sempre con capogioco 59 ebbene cari amici è successo ancora una volta a distanza di una settimana che il software ha pagato ancora una volta il terno secco questa volta sulla ruota di roma guardate qui la previsione roma ambato 59 questi erano gli otto ambi e questi due abbinamenti per tentare le terzine cosa è successo all'ottavo colpo 59 26 a roma e terno secco 59 26 73 vinto secco a ruota spia magica si è portato a casa due terni secchi a ruota in una settimana possiamo dire perché l'ultimo terno è stato realizzato il 7 di novembre e questo terno il 14 di novembre questi sono risultati cari amici di grande valore perché vincere un terno al gioco dell'otto non è facile però i miei software ancora una volta dimostrano di portare a casa risultati importanti andiamo a guardare proprio dal software spia magica proprio dallo specchietto qua è proprio la previsione che ha vinto il terno questa era la previsione che era stata ricavata in data 26 ottobre ok? la spia magica si basa sulla spia 7 quindi ogni volta che la spia 7 esce su qualsiasi ruota il software automaticamente vi dà la previsione qui avevamo la spia 7 sulla ruota di Torino il software proponeva questa giocata guardate intanto ovviamente è importante spia magica perché gioca su una sola ruota di gioco quindi abbiamo un estratto unica ruota quindi anche per i forti giocatori di ambata diventa un software molto interessante ok? quindi questo è stato il terno secco vinto a ruota ok? 59.26.73 e questo è stato l'altro terno vinto perché la previsione è ricavata in data 24 ottobre guardate e ricavava questa previsione ambro 59.77 e terno secco 59.77.40 a Venezia quindi questo è il terno vinto in data 7 novembre e questo è l'altro terno vinto ok? andiamo a fare un po' di statistica di questo software vediamo per esempio da gennaio 2017 quello che ha ottenuto fino ad oggi e vediamo che 95 previsioni erano quelle giocabili quelle vincenti sono state 80 con una bellissima percentuale dell'87 7.91% 11 negativi e 4 in corso abbiamo vinto 105 ambate 39 estratti determinati 112 ambia ruota quindi una bella percentuale e 21 terni dall'inizio dell'anno quindi da gennaio a novembre sono stati vinti 21 terni secchi quindi aggiornato l'estrazione del 14 novembre con l'ultimo terno secco vinto quindi cari amici io vi dico non perdete questo programma perché Spia Magica è un programma di grande valore un software di grande valore per vincere la ruota secca per di più che gioco un'unica ruota gioca 8 ambi e 16 terzine su un'unica ruota ovviamente anche gli altri miei software sono di grande valore e con questi video voglio tenervi informati su quelli che sono gli esiti che si ottengono con i miei programmi in descrizione troverete il link per scaricare la versione gratuita ambata e l'estratto determinato chi fosse interessato ad acquisire la versione completa mi può contattare all'indirizzo mail in descrizione per adesso un saluto a tutti Mister Sbancolotto